Il procuratore della Repubblica, il dottor Mario Spagnuolo, si è recato in visita alla Compagnia dei Carabinieri della città Bruzia presso la storica sede della caserma Palo Grippo in piazza De Bruzzi. Ad accoglierlo il comandante provinciale dei Carabinieri di Cosenza, colonnello Fabio Ottaviani, e il comandante della Compagnia, capitano Jacopo Passaquieti. Il procuratore ha tenuto un incontro con i comandanti di stazione dei reparti investigativi che hanno fornito un punto di situazione sulle principali problematiche criminali del territorio della Compagnia. Il procuratore spagnolo, nell'evidenziare il fondamentale ruolo dell'arma dei Carabinieri, quale presidio di legalità, ha inteso sottolineare l'attenzione e la determinazione con la quale la procura di Cosenza intende affrontare e proseguire ogni manifestazione di illegalità e di attacco ai diritti dei cittadini. Dai reati predatori a quelli a danno della salute pubblica e dell'ambiente. Il dottor Spagnolo ha inoltre rimarcato la centralità dell'attività svolta dalle stazioni dei Carabinieri, ribadendo come l'ufficio di procura intenda sostenere fortemente l'azione dell'arma sul territorio. L'incontro si è quindi concluso con un'analisi delle attività investigative in corso e delle possibili linee d'azione future.